Non riuscivo a fare il legame tra quello che mangiavo, che era sul piatto, e l'animale vivo. Quindi quando ho capito questo legame, il meganismo è diventato il mio stile di vita, è diventato la mia filosofia. Il meganismo mi ha dato un sacco di benefici, soprattutto dopo il mio infortunio. Alcuni dei benefici che ho trovato subito erano dormire meglio, meno infiammazioni nel corpo, soprattutto per lo sport che faccio, un miglior recupero, soprattutto dopo delle partite o gli allenamenti. Era interessante trovare tutti questi benefici in solo un cambiamento di alimentazione. Le differenti risorse di proteine le trovo ovunque, nel senso che non ho qualcosa in particolare, perché le proteine sono ovunque, le monosie vegetali soprattutto, frutti, cereali, legumi. La cosa bella della dieta vegana è che è talmente varia, che ogni giorno provi cose differenti, mangi cose differenti, quindi le proteine le trovi se provo. Un'altra cosa importante dei benefici è che so che attraverso questa filosofia aiuto non solo me stesso, ma anche quello che può essere animali, il mondo animale e il pianeta.